E' salito a circa 6.000 il numero delle carcasse di maiale trovate nel fiume Wangopo, l'altezza di Shanghai in Cina. Le autorità ne hanno senora rimosse 5.916. Unico indizio sulla provenienza degli animali è l'etichetta con il nome della città di Xi'an Xin. Al momento, testa di laboratorio, hanno rinvenuto circovirus in alcune delle carcasse. Il municipio di Shanghai ha comunque assicurato che l'acqua del fiume dal quale si rifornisce la città è sicura. Molto più scettici si sono mostrate gli abitanti della zona, la cui protesta è finita su Weibo, l'equivalente cinese di Twitter.